Il mondo del lavoro oggi è in costante cambiamento e movimento. Sono sempre di più le realtà che mutano i propri rapporti di lavoro e la fruizione di collaborazioni. Al costante impegno di aggiornamento e studio delle normative sulle quali la consulenza si sviluppa è affiancato un instancabile occhio sulle dinamiche della società, del mercato e del mondo stesso. Lorenzo Capici dal settembre 1991 esercita la professione di consulente del lavoro. Lo studio attualmente conta 12 collaboratrici e ha sedi a Ancona, Montemarciano e Senigallia. Ma che cosa fa un consulente del lavoro? L'attività di un consulente del lavoro si pone al centro di un ipotetico triangolo equilatero, dove ai tre vertici si trovano rispettivamente lo Stato, ossia il legislatore nella sua accezione più generica, il datore di lavoro e il lavoratore. Questi tre attori attivano delle dinamiche, spesso complesse e problematiche, sulle quali opera il consulente del lavoro attraverso le sue attività tipiche. Consulenza in materia di diritto del lavoro, diritto alla previdenza, amministrazione e contabilità delle retribuzioni, aggiornamenti contrattuali e retributivi, assistenza al datore di lavoro in occasione di visite ispettive e preparazione di ricorsi amministrativi, questioni relative alle relazioni contrattuali di secondo livello, nonché ogni aspetto relativo al contenimento delle liti attraverso pratiche di conciliazione e raffreddamento del contenzioso. I clienti sono aziende di ogni dimensione, professionisti, esercenti, enti, istituzioni e tutti quei soggetti che hanno, in una misura o nell'altra, necessità di consulenza e assistenza sulle questioni del lavoro e delle relative problematiche. Il lavoro è complesso e articolato e richiede, oltre che un costante impegno di aggiornamento e studio, anche notevoli doti di mediazione, di comunicazione e di negoziazione. Inoltre, per svolgerlo al meglio, lo studio collabora abitualmente con partners di diverso genere, esperti in area legale, in area sicurezza sul lavoro, area tributaria e fiscale. Lo studio Capici, dopo 25 anni di attività, ha radicamenti e contatti, relazioni e partnership in maniera trasversale su tutto il territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.